Affrontare il crescente fenomeno delle molestie, delle violenze e dei ricatti contro le donne sul luogo di lavoro è la finalità dell'iniziativa messa in campo dal Comune di Roseto e dalla Commissione Pari Opportunità attraverso il convegno denominato Il lavoro che umilia. Incontro finalizzato a far conoscere il ruolo della consigliera di parità, figura nata da oltre dieci anni ma ancora a molti sconosciuta, per rompere il silenzio, per aiutare a denunciare. C'è anche lo sfruttamento, c'è il lavoro nero e poi la condizione femminile che è comunque sempre sottoretribuita nelle migliori delle condizioni. Quindi tutto questo però, c'è una tutela a tutto questo ma tutto questo le donne non lo sanno, non conoscono. Per esempio la figura della consigliera di parità è una figura istituita già nel 2000-2001, non ricordo, ma che comunque aiuta le donne a conoscere i propri diritti ha addirittura il potere di convocare il datore di lavoro per conciliare la situazione. Quindi noi donne non conosciamo tutto quanto questo. Avremo anche la presenza importante della dottoressa Pietro Paolo che è giudice del lavoro del Tribunale di Teramo che ci farà conoscere i casi concreti. Poi nel corso di questo convegno ci sarà anche la proiezione di un corto che riguarderà le donne, la condizione femminile. Sarà presente la Fenice che è il centro antiviolenza di Teramo che sta per aprire anche due sportelli sulla costa perché appunto le donne non sanno neanche di questo centro antiviolenza. Quindi tutto questo convegno ha come finalità quello di portare le donne a conoscenza di situazioni che possono risolvere i loro problemi. Quindi avvicinare le donne alle istituzioni o comunque a queste organizzazioni che hanno proprio questo principio o compito.